ciao ragazzi volevo farvi un salutone qua dalle strade di madrid c'è un po di bresciano anche qui in spagna e volevo fare un salutone mandare un abbraccio a tutti i ragazzi del lato p.it mi piace la vostra iniziativa quando avete bisogno scrivetemi e un grosso abbraccio ciao ragazzi